Mi trovo a Chioggia e ho incontrato questi amici che dalla Svizzera sono praticamente... Ah no, sono giunti qua, non ho provato a Chioggia, passando solo per i fiumi. Sì, a parte va al pezzo Milano, dai Narigli a Pavia, che nel Nariglio paese non è navigabile, allora li abbiamo fatti in bicicletta, il resto. Il resto? E i gommoni come li avete trasportati? Da Milano e Pavia, con un camion. Bello come esperienza. E adesso la prossima tappa? Secondo lei? Venetia. E poi? Rientro. E poi rientrate. Quanti giorni? Nove. Complimenti, un bel viaggio. La notte vi fermavate, andavate in albergo e via. Difficoltà? Tante. Quelle più importanti? Il po' che non è mantenuto, non c'è zona navigabile, si tocca il fondo, ci sono dei cartelli che indicano le direzioni che non sono corretti. Questo è interessante saperlo, anche perché possiamo muovere presso le istituzioni, ma non è navigabile? Ah no, ma forse una manto va. Non è navigabile, vuol dire che siamo riusciti a passare. Sì, certo, però con difficoltà. Cosa avete trovato? Alberi nell'albero? Però c'erano punti dove toccavate addirittura. Ma più di uno. Più di uno. Quindi è bassissima il po' in questa tegione. Brutto segnale questo. Ma è che l'anno scorso era così, eh? Terribile. Va bene, io la ringrazio, complimenti, buon viaggio. Buon viaggio. No, poi tornati in gomboni immagina. No, i gomboni. Ah, con il camion. E questi gomboni sono tutti uguali, quindi fate parte di un'associazione che... Siamo, è un viaggio turistico. Ah, proprio un viaggio organizzato turistico. Va bene. La ringrazio, è stato gentilissimo. No, salve. La ringrazio, è stato gentilissimo. La ringrazio, è stato gentilissimo.